bella ragazzi prima del video mi raccomando ancora pochissimi giorni per partecipare al giveaway di instant gaming il giveaway gratuito che vi permetterà di vincere un gioco a vostra scelta qualsiasi il link lo trovate nei commenti ragazzi e una volta raggiunta questa pagina fate tutti i procedimenti per ottenere più chance di vincere buon video bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi in collaborazione con i nostri amici di fortnite italy ragazzi ve lo ricordo sempre il gruppo telegram dove potrete trovare un sacco di news relative a fortnite voglio portarvi esattamente nella location del banner segreto ragazzi sì banner segreto della settimana numero 6 di fortnite forse non lo avete ancora visto ragazzi ma eccolo qua il nostro loading screen la schermata di caricamento di questa settimana ragazzi come vedete ci mostra il corso commercio ma c'è qualcosa di più ragazzi molto molto bella come schermata di caricamento indiscutibilmente ma se andiamo ragazzi a guardare meglio qua ci sono davanti io ma non preoccupatevi che adesso ve lo faccio vedere bene nella lavagnetta in basso a sinistra c'è un disegno ragazzi eccolo qua se lo volete guardare un po meglio ragazzi è proprio la posizione dello standardo segreto e allora dove si trova ragazzi beh abbiamo capito praticamente già tutti dov'è comunque andiamo ugualmente a vederlo insieme si trova ragazzi nella parte del deserto ci sto arrivando vicino alla city di gerusalemme insomma questa è la sezione che a noi interessa questa è esattamente la posizione del banner quindi la corona chiamiamola così che c'è in alto a quella montagna per raggiungerla c'è un modo molto molto semplice se non ci arrivate con il deltaplano basta semplicemente ragazzi utilizzare la fantastica e meravigliosa zipline come vedete ce n'è già una qua ragazzi vi ricordo intanto ovviamente che per ottenere lo standardo segreto dovrete obbligatoriamente completare tutte le sfide della settimana mi raccomando completatele tutte e guardate nel canale che ci sono tutte le soluzioni come ogni settimana una volta presa la zipline ci dirigiamo ragazzi verso il nostro punto di arrivo basterà semplicemente raggiungerlo e il nostro standardo segreto si troverà esattamente qui beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie per la visione!